La luce di fuori dalla sala perché per The Crisis a caldo questo video su John Wick che è il nuovo film con cui il re di vivo Keanu Reeves torna a spaccare i culi dopo un periodo di alcol e abusi di vario tipo, soprattutto di tantissimo cibo a occhio si è rimesso in forma perché? Perché a un certo punto gli hanno detto devi tornare a spaccare i culi come hai bei tempi e quindi si è dimagrito, si è messo in forma per questo film in cui è un sicario un ex sicario che dopo la morte della moglie è depresso e l'imbecille figlio del suo ex capo dice ma sai che quasi quasi gli rubo la macchina e gli ammazzo il cane? e da quel momento un'ora e quaranta di spaccamento di culi detto questo, detto che appunto la sceneggiatura non è proprio il forte di questo film non solo nello spunto iniziale ma anche in tutte le sfumature, in tutti i risvolti che a un certo punto la trama prende il film funziona il film funziona innanzitutto perché è un modo di riprendere l'azione di mettere in scena i combattimenti, l'esparatore è molto elegante, molto ben fatto come dire, aggrada sia a chi vuole la violenza, sia a chi vuole la potenza dell'azione ma sia a chi vuole anche una certa cura della messa in scena ma a parte questo, il film funziona perché riesce nell'impresa di mettere insieme come dire, l'immaginario degli anni ottanta, il cinema degli anni ottanta degli stalloni, degli Schwarzenegger, anche di Steven Seagal in un certo senso dove c'era un pretesto per cui a un certo punto il protagonista dovesse fare il più casino possibile mettere questa linearità, questo semplicismo potremmo dire metterlo in parallelo invece con una sorta di iperrealismo da videogioco ecco non so se è tratto effettivamente da un videogioco, John Wick ma sembra, sembra perché il mondo che crea, sono delle trovate per esempio c'è questo hotel dove si svolge gran parte dell'azione che è una sorta di luogo parallelo solo per i criminali le azioni, le imprese vengono pagate con delle monete d'oro quindi l'iperrealismo, l'eleganza fittizia, tutto fretta del videogioco con il semplicismo, con il pragmatismo quasi degli anni ottanta ecco ci riesce, funziona, c'è il ritmo e c'è lo spettacolo ci sono anche delle sbavature, poteva venirne fuori un film molto più concreto molto più compatto però voglio dire dopo che Keanu Reeves ha fatto le porcate che ha fatto non ci lamenteremo no?